E' finito di riposarti. Ah, moni, dai, che se no non ce ne andiamo più, ci siamo due ore per ogni cosa. No, no, questo no, questo no, troppo chiaro, troppo chiaro, uno più scuro. Eh, questo sì, dai. Ora puoi mettere quello chiaro, così si alternano, capito? Sbrigati, ancora devi fare tutti quelli, poi questi, e poi abbiamo finito. Ma perché lasci i tuoi giornali in mezzo alle cose che poi ci rimproverano? Oh, papà, concorsi d'Europa. Eeeh, non voglio sapere niente, Salvo. No, 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 basta, 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 basta. Peccato. Londra, Barcellona, Vienna, Atene, Cipro. Ragazzi, a che punto siete? Tutto corso? Abbiamo finito. Lo hanno trovato? Compà, però, stavolta decido io, eh. Amsterdam, la Venezia del Nord. Grazie a tutti. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti!